Stiamo vivendo tutti il dramma del coronavirus, ma le categorie che sono più colpite sono quelle più fragili. Penso agli ammalati, penso agli anziani. E vi è un mondo davvero fantastico, meraviglioso, quello del volontariato, che cerca di alleviare queste sofferenze, di dare una carezza, facendo tutto a proprie spese, con enormi sacrifici. E' il caso della Croce Rossa di Grottaglie, una realtà fantastica che ha attivato tutta una serie di servizi che scopriremo. Davvero un'oasi felice, l'oasi della solidarietà targata Croce Rossa di Grottaglie. La Croce Rossa di Grottaglie è una realtà presente sul territorio da più di 20 anni e quest'anno, proprio nel giorno del Santo Patrono San Ciro, è diventata comitato autonomo distaccandosi da Taranto. Ecco i servizi che mette a disposizione. Pronto Amico, Pronto Farmaco, Pronto Spesa. Pronto Amico è uno spazio telefonico di ascolto e di condivisione. Un volontario della Croce Rossa risponde da lunedì al venerdì, al mattino, dalle ore 9 alle 12, e nel pomeriggio, dalle ore 17 alle 19. Basta telefonare al numero 099 96 47 207. Una voce amica sempre vicina a voi. Ci sono poi il servizio Pronto Farmaco, ritiro ricette mediche e ritiro medicinali dalle farmacie. E' il servizio Pronto Spesa. Si porta la spesa a domicilio. Basta telefonare dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle 19.30, al numero 376 00 93 814. La Croce Rossa di Grottaglia, inoltre, sta aiutando le caritas delle varie parrocchie a distribuire il cibo ai bisognosi. La Croce Rossa sta davvero facendo il massimo, ma fronteggiare un'emergenza è sempre molto dispendioso, perciò ha attivato una raccolta fondi per poter acquistare dispositivi di protezione individuale, materiale sanitario, materiale sanificante e tutto ciò che può essere utile per affrontare la situazione. Ecco il link. Croce Rossa italiana. Aiutaci ad aiutare. Grazie a tutti.